A Teramo in particolare sui social sta montando una protesta su un presunto aumento dell'Atari che in realtà non c'è stato. L'associazione dei consumatori Robinhood precisa che non si tratta di un aumento ma semplicemente si paga di più perché lo scorso anno proprio per il pagamento dell'Atari lo Stato aveva concesso un bonus che quest'anno ha eliminato. Sì, questo riguarda chiaramente le attività commerciali, le attività. Siamo stati costretti a fare questa comunicazione a stampa perché chiaramente monta questa protesta, arrivano tanti telefonati anche in associazione. Molti denunciano il 30% di aumento che come dicevamo non è un aumento. 30,5% di aumento, non è un aumento. L'equivoco nasce dal comparare l'Atari dell'anno scorso con l'Atari di quest'anno dove c'è una differenza del 30% che sembrerebbe un aumento ma non è un aumento. L'anno scorso vogliamo ricordare a tutti, anche a chi ha ricevuto queste bollette, c'era stato il contributo che per quanto riguarda i comuni termini è stato applicato perché poi bisogna anche dire che molti comuni non l'hanno applicato, nonostante lo Stato aveva dato questa disponibilità, molti comuni non hanno applicato questa riduzione dell'Atari. A termine è stata applicata questa riduzione dell'Atari e quello che sembra oggi è un aumento, è semplicemente un equivoco sulla comparazione di quello che è stato dato l'anno scorso e quello che si dà quest'anno. Insomma quello che sembra un 30% di aumento è semplicemente quello che avremmo pagato, anzi le attività commerciali avrebbero pagato anche lo scorso anno se non avessero usufruito del bonus statale. Perfetto, quindi non ci sono stati aumenti.